Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria in apertura del notiziario. Vi riferiamo dell'operazione di polizia giudiziaria eseguita a Gela, scoperto un giro di reperti provenienti da scavi clandestini in diverse aree di interesse archeologico, eseguite 12 misure di custodia cautelare messe dal GIP del Tribunale Gelese, 6 le persone arrestate, altrettante quelle collocate ai domiciliari, 27 quelle indagate. Vediamo. Un giro di reperti provenienti da scavi clandestini in diverse aree di interesse archeologico, in particolare da Camarina, è stato scoperto dal personale appartenente alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Gela a Lico da Guardia di Finanza e dalla Guardia di Finanza della locale Comando. Eseguite 12 misure di custodia cautelare messe dal GIP del Tribunale Gelese, Veronica Baccaro, su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Lucia Lotti, 6 le persone arrestate, altrettante quelle collocate ai domiciliari. Agli arresti domiciliari sono finiti Michela Ionita, Vincenzo Cassisi, Nicola Santo Martinez, Giuseppe Rapisarda, Sergio Fontana Ross, Alessandro Lucidi. In carcere Simone Di Simone, Orazio Pellegrino, Salvatore Cassisi, Pasquale Messina, Roberto Ricciardi, Amedeo Tribuzio. In tutto sono 27 le persone indagate. Le misure cautelari sono state eseguite a Gela, in Puglia ed in Campania. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Elisa Calanducci si sono sviluppate attraverso attività tecniche, servizi di medinamento ed appostamento e continui riscontri sul territorio. È stata ricostruita una vasta gamma di illeciti e si è individuata l'attività di soggetti dediti al reperimento illecito mediante ricerche clandestine in diverse aree archeologiche di importanti materiali di interesse archeologico e la successiva commercializzazione illecita. C'era, così come accertato dall'inchiesta, una rete di gruppi operanti in diversi territori, Paternò, Vittoria, Zone del Casertano, con cui i soggetti gelesi interagivano e sviluppavano affari. Le indagini hanno anche permesso di sottoporre a sequestro materiale archeologico, in particolare oltre 400 monete, la maggior parte delle quali risalente ad epoca tra il V ed il II secolo a.C., varie apparecchiature, metal detector, utilizzate per le ricerche clandestine. Le persone sottoposte ad indagini, lo ricordiamo, sono 27. L'operazione di polizia giudiziaria delle ultime ore è stata ribattezzata a Gorà. Sentiamo ai nostri microfoni gli investigatori che hanno portato avanti un'indagine particolarmente complicata. Vediamo. Dottoressa, continuano le attività intensamente di questa procura e questa volta le indagini si sono concentrate su un mercato che è molto difficile da intercettare, cioè un'attività illecita che richiede delle specializzazioni particolari e anche un'organizzazione particolare, e da parte della procura e da parte dell'organizzazione criminosa. Abbiamo cercato di sviluppare al meglio le attività investigative, di ricostruire in maniera probatoriamente molto molto forte queste attività illecite, perché sono attività che purtroppo generano un mercato, un mercato anche piuttosto ricco, però è un mercato che si fonda su attività predatorie, su attività che tolgono al territorio, alla ricchezza e alla possibilità di sviluppo di questa terra, delle componenti fondamentali, tolgono parte della storia. Queste attività illecite sono quelle che dovrebbero procurare maggiore indignazione da parte della collettività tutta, perché questi soggetti rubano pezzi di storia che finiscono altrove, probabilmente a casa di collezionisti, con pezzi forse unici che non vedremo mai. Certamente è un mercato molto ricco, è un mercato che è difficile da intercettare, perché si tratta di attività che si sviluppano come delle vere e proprie reti, in territorio nazionale, in Sicilia, in questo caso, in primo luogo, perché è un territorio ricco di reperti, ovviamente poi si sviluppano anche altrove e anche all'estero, è un vero e proprio mercato illecito, parallelo, nemmeno parallelo, cioè è un mercato illecito, punto. I maggiori acquirenti, dicevano gli investigatori, si trovano al momento, almeno per quanto riguarda questa indagine, in Germania e in Spagna, ma non sarebbe possibile fare un'operazione internazionale per intercettare questi beni e riportarli a casa? Ma questo, in questo caso, è molto complicato, sono state trovate delle tracce, indubbiamente, che portano a questi paesi, ma certamente vi sono possibilità di sviluppo investigativo, tuttavia miriamo in questo momento soprattutto alla ricostruzione e al contrasto delle attività che siamo riusciti a comprovare su questo territorio. È un'organizzazione che si muoveva in maniera omogena, radicata sul territorio, composta da soggetti che avevano dei compiti specifici, alcuni dei quali si occupavano di recuperare i mezzi per recarsi sui posti dove scavare, alcuni si occupavano proprio dell'attività di scavo, cosetti tombaroli, altri invece si occupavano dell'attività di commercializzazione degli reperti delle monete principalmente che venivano rinvenute e quindi dovevano essere commercializzate, quindi ricevere beneficiari per il lavoro. Si tratta di una criminalità assolutamente specializzata, conosce molto bene gli oggetti che deve commercializzare. Indubbiamente nell'ambito di questo gruppo organizzato vi era anche colui il quale si occupava di individuare le monete che avevano più valore, lasciando da parte quelle che erano difficili da piazzare. Il sindaco Domenico Messinese e l'assessore alla cultura Francesco Salinitro hanno espresso il proprio compiacimento per l'operazione coordinata dalla procura di Gele e condotta dalla Guardia di Finanza che ha consentito di sgominare una banda di tombaroli. Oltre al grande valore dei reperti che sono stati recuperati va sottolineata l'importanza di un'inchiesta che mira a tutelare l'immenso patrimonio archeologico di cui è ricco il nostro territorio. Non è consentito a nessuno di depredare i nostri tesori. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è quello di valorizzare le nostre bellezze, detto l'assessore Salinitro, e la loro difesa da parte degli organi inquirenti ci incoraggia a percorrere questo cammino. Aveva messo in piedi un sistema di compravendita simile a quello di un coffee shop tipico di Amsterdam. I clienti interessati all'acquisto di sostanze stupefacenti chiedevano la sostanza voluta e la quantità desiderata e lui eseguiva la richiesta dell'assuntore. Adesso è ai domiciliari e ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Gela, protagonista il disoccupato Angelo Giuseppe Gagliano, 24 anni, pregiudicato. I militari dell'arma hanno notato in una via decente l'ingresso dell'appartamento del ragazzo, due soggetti appartati in una zona buia con un atteggiamento guardingo e sospettoso. Giunti in prossimità dei giovani, Gagliano è fuggito verso l'interno della propria abitazione chiudendo il portone d'ingresso per impedirne l'accesso, mentre l'altro ragazzo è rimasto fermo e segnalato alla prefettura di Caltanissetta per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovate intento a fumare uno spinello. Durante la perquisizione domiciliare sono state rinvenute 51 dosi confezionate artigianalmente con della carta stagnola di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana per un peso totale di circa 60 grammi, pronte a essere smistate alla clientela. E anche un bilancino di precisione elettronico e il cutter utile alla suddivisione in dosi della sostanza detenuta da Angelo Giuseppe Gagliano. E adesso apriamo la pagina dedicata alla politica sulla vicenda dei due segretari del Partito Democratico Gela. Oggi interviene il segretario regionale Fausto Raciti. Sentiamo cosa ha riferito ai nostri microfoni. Non si era mai visto da nessuna parte ma Gela è successo. In città attraversata da numerosissimi problemi non si fa altro che parlare della vicenda politica che interessa il Partito Democratico. A Gela infatti ci sono due segretari, uno è Peppe Di Cristina, l'altro è Fabio Collorà ed essendoci due segretari ci sono due partiti, almeno così sembra. Il segretario regionale Fausto Raciti sgombra il campo e sottolinea che l'unico segretario è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro nel corso del congresso che si è svolto nei locali dell'hotel Sireno. È di Cristina perché c'è stato un congresso, c'è un ricorso per mente fino a che non si pronuncia la commissione di garanzie di Cristina. Domenica scorsa al Teatro Eschilo si è svolto il contro congresso voluto dalla Larenziana e proprio in quell'occasione è stato letto segretario Fabio Collorà. Raciti, ma cosa contesta la Larenziana? È giusto e legittimo fare ricorsi se non si condividono le regole? Non è giusto dare la rappresentazione dell'esistenza di due PD. Si aspetta l'esito dei ricorsi in commissione di garanzia regionale dato che in provinciale è stato già respinto in quella provinciale e poi si ragiona di politica e non di sciocchezze. Tutto quello che sta accadendo a Gela non fa il bene del partito. Le chiediamo, Fausto Reciti, ma come si può uscire da questa situazione imbarazzante? Io ritengo che Gela abbia problemi più seri che preoccuparsi di quanti segretari di circolo abbia il PD. Per esempio la vicenda Eni. E che il PD dovrebbe occuparsi di questo piuttosto che limitarsi a rappresentare all'esterno le proprie libri interne. Sono ancora al vaglio degli inquirenti. Le cause dell'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla statale Gela Vittoria in Contrada Spina Santa, un camionista ha perso il controllo del proprio mezzo che si è ribaltato. L'uomo è stato trasportato in ospedale mentre la carreggiata è stata invasa da carciofi e cassette di plastica caduti dal camion. Inserito nel programma delle attività sui 35 anni di Canale 10, i racconti di mafia è il titolo di una serie di documentari che trattano un tema importante e delicato come la mafia che ha insanguinato le strade gelesi tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del 90. Racconti di mafia traccia un percorso importante non solo della storia gelese ma anche di quella nazionale. Durante il corso delle puntate vi sono importanti interventi di rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine e diverse testimonianze di collaboratori di giustizia. La prima puntata di Racconti di mafia andrà in onda oggi alle 21 e streaming sul portale tg10.it. Una folla immensa ha dato l'ultimo saluto ieri a Don Lillo di Gregorio. I funerali sono stati ufficiati in un paladon bosco gremito. Vediamo. Pala Don Bosco gremito ieri pomeriggio per l'ultimo saluto a Don Lillo di Gregorio, 86 anni, figura storica del clero locale, scomparso la notte di venerdì scorso. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano aggravate. Era ricoverato in terapia intensiva al reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele a seguito di un ictus che lo aveva colpito ad inizio della settimana scorsa. Nato a Calzagirone nel 1929 e dal 1971 è stato uno dei sacerdoti più amati a Gela. Ha sempre svolto il suo ministero nella chiesa San Domenico Savio del villaggio Aldisio, di cui è stato anche parroco. Sempre disponibile con tutti, a tutti dava una parola di conforto, gentile col prossimo, chiunque si rivolgeva a lui. Don Lillo di Gregorio lascia un vuoto incolmabile, così come hanno più volte sottolineato i fedeli, colori quali lo hanno voluto bene. Il feretro ieri è stato portato a spalla dai sacerdoti ed accompagnato in processione dalla chiesa al palazzetto. La celebrazione è stata preseduta dal vescovo della diocesi di piazza Merina Monsignor Rosario Gisana e concelebrata dai sacerdoti gelesi e dai superiori salesiani di Sicilia. Don Lillo è stato un pastore, come direbbe Francesco, con l'odore delle pecore. E sono in tanti che hanno constatato come, mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, abbia accorciato le distanze, si sia abbassato fino all'umiliazione, assumendo la vita umana nella sua totalità, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Don Lillo non era un prete di sacrestia, ma era un parroco in uscita tra le case e per le strade, che ricercava il contatto con la gente e con i fedeli, con la passione di portare a tutti gli età lungo di Cristo e introdurre all'esperienza più piena di Dio negli anni sacramenti e l'impegno del servizio. Al Signore risorto e alla Vergine Ossigliatrice affidiamo al nostro compratello sicuri che abbia raggiunto la gioia piena e la vita senza più. A fianco della bara, stesa su un lenzuolo bianco e adornata con rose e iris rossi, una foto di Don Lillo di Gregorio, in veste sacerdotale, con le mani congiunte. Doppio incontro con Emanuele Verdura, autore del libro Nati dal cuore, ieri nei locali della scuola Mario Gori di Butera, che fa parte dell'istituto comprensivo Enrico Mattei di Gela, diretto da Agata Gueli. Il romanzo di Verdura racconta due vicende parallele che il destino decide di intrecciare fra loro, due storie di coraggio e di bisogno d'amore, due coppie diverse, lontane nello spazio e negli stili di vita che con fatica e abnegazione troveranno forse il modo di unirsi. In Italia Eros e Linda sognano di diventare una famiglia, nella lontana India Givan e suo fratello lottano per la sopravvivenza e per conservare le proprie radici. Tutti insieme, ognuno a modo suo, si impegneranno per trovare un equilibrio e un senso allo stare insieme come famiglia. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, adesso la linea va alla regia per la pubblicità, noi torniamo tra poco per la seconda parte del nostro telegiornale. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, giovedì 17 marzo alle 17.30 al Liceo Classico Eschilo, organizzata dall'Uni3, preseduta da Angela Scaglione, si terrà la presentazione del libro di Salvatore Buscemi, C'erano una volta i giochi. Prevista tra gli altri la presenza dell'assessore comunale all'istruzione, Licia Abela. Avvocato Tesauro, eletto presidente della Camera Penale all'unanimità, quale sarà il primo obiettivo da raggiungere in questa sua presidenza? Intanto sono onorato di poter rappresentare gli avvocati penalisti nisseni. Veramente abbiamo diversi obiettivi da dover raggiungere. In primis abbiamo il problema della Corte Appello, che sembrerebbe un luogo comune perché tutti ci interessiamo, ma in realtà noi abbiamo un interesse specifico a che la Corte Appello permanga. Chiaramente lavoreremo in simbiosi con l'organo istituzionale, il Consiglio dell'Ordine, il quale sta lavorando lacramente sulla problematica di poter salvare la Corte Appello. Noi già abbiamo sempre detto le difficoltà che genererebbe la soppressione della Corte Appello e quali uffici farebbe venire meno e quanti lavoratori metterebbe in grave crisi. Principalmente noi come avvocati avremmo grosse difficoltà. A questo debba aggiungere che la Camera Penale, che fondamentalmente il direttivo è formato da cinque componenti, con a me a capo, non lavorerà da sola. Io sono un decentratore per eccellenza, nel senso che cercherò la collaborazione di tutti i colleghi perché il direttivo è nella forma, ma nella sostanza siamo tutti gli avvocati penalisti e non che abbiamo l'interesse che la Corte Appello permanga. Mi trovo assolutamente confortato da questo aspetto. È ovvio che ho trovato questo comitato direttivo che è composto da Renata Cardi, che è il segretario, che ha sempre lavorato lacramente e continua a farlo e l'ho vista colma e piena di entusiasmo. A qui si aggiunga anche l'entusiasmo di Maria Salvo, che è il tesoriere del direttivo, che è stata nominata, così come Renata, ad unanimità, senza alcun problema. E poi, devo dire, avrò la possibilità di avere anche, mi lasci passare il termine, di un magnate del Tribunale, tra gli avvocati, che è l'avvocato Pastorello, Boressi Pastorello, che abbiamo percorso la strada assieme e quindi le idee sull'esperienza, le idee che potrà promanare Boris e l'aiuto sicuramente sarà fattivo e sarà preziosissimo. La casa del volontariato Social Cohesion Factory è un'ex scuola abbandonata e diventata spazio urbano rigenerato, dedicata all'educazione e alla convivenza democratica. Lunedì 21 marzo alle 16.30, nella Sala Conferenza, recentemente ristrutturata grazie all'opera gratuita di alcuni imprenditori, i rappresentanti della società civile consegneranno a 250 studenti delle scuole superiori il passaporto del volontariato. Gli studenti saranno impegnati in 21 progetti sociali all'interno di tutti i quartieri di Gela. Si occuperanno di manutenzione del verde, distribuzione di alimenti e indumenti, assistenze disabili e agli anziani. 21 progetti di educazione alla convivenza democratica per formare cittadini non solo attivi ma anche solidali. Nel passaporto del volontariato saranno certificate le attività svolte e le abilità acquisite. Adesso parliamo del convegno promosso a Gela dall'Associazione Diabetici. Vediamo. La riabilitazione cardiovascolare del paziente diabetico e cardiopatico è il tema che è stato trattato durante un convegno organizzato dall'Associazione Diabetici Eschilo di Gela, presieduta da Giuseppe Curatolo in collaborazione con il CESVOP. Numerosi interventi introdotti ai coordinati dal pediatra Cristoforo Gocchiara. Uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, oltre alla terapia farmacologica, sono il sostegno psicologico, l'esercizio fisico e la corretta alimentazione. Questo aiuta a comprendere come la collaborazione tra cardiologo, diabetologo, psicologo e specialista in attività motoria è di fondamentale importanza per i pazienti. Dopo un evento così importante e traumatico come un evento cardiaco acuto, occorre una riabilitazione fondamentale e completa per portare un soggetto a un benessere psicofisico più o meno simile a come era prima e soprattutto per la prevenzione di ulteriori eventi drammatici. Presenti al convegno anche il diabetologo Rocco Gibilras, il cardiologo Erminio Spadaro e la psicologa Nuccia Morselli. Prevenire la riabilitazione significa prevenire la complicanza cardiovascolare che è l'infarto nel soggetto diabetico. Per fare tutto ciò, per prevenire l'infarto e quindi la riabilitazione, dobbiamo cercare di trattare alla stessa stregua adeguatamente tutti i fattori di rischio cardiovascolari che presenta il soggetto diabetico, ovvero sia l'ipertensione, l'obesità, la sedentarietà, l'ipercolesterolemia. Se noi riusciamo adeguatamente a trattare tutti i fattori di rischio cardiovascolare, riduciamo la possibilità che un soggetto possa andare incontro ad infarto e quindi farsi successivamente e obbligatoriamente e necessariamente la riabilitazione cardiovascolare. La riabilitazione cardiovascolare rappresenta un momento cruciale, un fulcro nella terapia del paziente cardiopatico. Va da supporto alla terapia medica, aiuta a migliorare sicuramente quella che è la qualità di vita, la mortalità in questi soggetti. Dispone pure un recupero dal punto di vista psicologico, determinante un migliore insodimento nella vita sociale quotidiana. Ha concluso i lavori lo specialista in attività motoria Walter Micciche. La build, la realtà è proprio questa, l'attività motoria. L'attività motoria che non deve essere mai fin a sé stante o fatta così a caso ma sempre in simbiosi insieme al medico, il paziente e l'insegnante di questione fisica. Perché l'unico modo per riuscire a risolvere tutte le complicanze possibili in un cardiopatico è sicuramente l'attività motoria perché già dal primo o secondo mese si hanno ottimi risultati molto evidenti e questo ripermette il ritorno dentro la vita sociale. La gelese Simona Scerra rivestirà il ruolo di direttore di gara nell'ambito della terza tappa del campionato di serie A di ginnastica artistica prevista a Roma venerdì 1 e sabato 2 aprile prossimi. L'evento è in programma al pala lottomatica, più di 12.000 i biglietti già venduti. La terza prova del campionato italiano di serie A maschile e femminile ha creato attorno a sé un'attenzione senza precedenti, almeno per la capitale. Non ci si aspettava infatti di riempire uno degli impianti più grandi di Italia. Prevista la presenza di atleti del calibro di Vanessa Ferrari, Carlotta Ferlito e molti altri conosciuti dal grande pubblico come i protagonisti del programma Ginnaste Vite Parallele, in onda su MTV ma noti al mondo dello sport come campioni italiani che hanno dato onore all'Italia, anche nel corso di manifestazioni come le grandi olimpiadi di ginnastica artistica. Simona Scerra è reduce da un recentissimo successo italiano con i campionati di cheerleading del team da lei allenato e chiamato Starlight. Una settantina di scacchisti hanno partecipato al campionato provinciale giovanile di scacchi, valevole per le qualificazioni alle fasi regionali e nazionali della disciplina scacchista che si è svolto a Gela domenica. Il torneo giovanile organizzato dall'associazione direttantistica Gela Scacchi era riservato alle categorie che vanno dall'under 8 all'under 16. Teatro dell'evento è stata la scuola Quasimodo di Gela, il titolo provinciale dà diritto alle fasi successive del campionato italiano di scacchi. Ad augurare un buon torneo ai tanti piccoli e giovani scacchisti e a dare il via alla manifestazione con il consueto bianco in moto è stato il sindaco Domenico Messinese. Presenti anche gli assessori Simone Siciliano e Francesco Salinitro, arbitro nazionale Carlo Bella che si è complimentato con gli organizzatori. Siamo all'informazione cinematografica e fuoco a mare, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30. Sabato 19 marzo alle 21 all'antidoto è prevista la rappresentazione teatrale e servizio in camera è tutta una farsa. Comedia brillante in due atti di Emanuele Gianmusso per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 7143 293. I biglietti sono in vendita presso il botteghino dalle 17 alle 20.30. Sempre sabato 19 marzo alle 21 al Teatro Eschiro la compagnia Liotru porterà in scena le sorprese del divorzio per informazioni 3427452695 oppure al botteghino del teatro. E arriva a Gela a vivere alla grande il documentario sul gioco d'azzardo che racconta quella che è una vera e propria invasione nella vita della popolazione italiana. Grazie alla disponibilità del Cineteatro Antidoto di Macchitella domenica 20 marzo sarà possibile assistere ad una doppia proiezione. Gli orari sono fissati per le 17.30 e per le 20.30. Il costo del biglietto per l'occasione sarà di 5 euro. Sarà presente anche il regista del film, il pugliese Fabio Leli. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie a tutti.